Una vacanza diversa tra eremi silenziosi e piccoli borghi di montagna. Per gli appassionati sono viaggi per ritrovare se stessi. Roberta Badaloni. La suggestione della storia, oltre ad un panorama che lascia senza fiato, la sensazione appagante della pace, quella che qui, vivendo daeremita tra le montagne abruzzesi della Maiella, venne a cercare nel 1246 Pietro da Morrone, dando vita ad un monastero prima di diventare Papa Celestino V. È un tipo di turismo in forte aumento, quello che sceglie come meta gli eremi. Oltre 5 milioni in anno, qui ci raccontano, ognuno cerca risposte alle domande che si porta dentro. Cerca un po' di pace, un po' di sollievo, cerca sicuramente un luogo dove staccare dalla vita quotidiana, dal tran tran. D'altronde chi ha abitato questi luoghi nell'antichità, questo cercava. Il valore aggiunto del silenzio, che parla a chi è capace di ascoltare, lo ribadiscono le guide che portano fin qui i visitatori attraverso un cammino che collega eremi e borghi. L'uomo ritrova il contatto con la natura, stacca la mente dalla quotidianità, ed è un cammino di completa immersione nella natura. La chiesa, la sagrestia, la foresteria, le celle, tutto gestito da 8 giovani che accolgono i turisti. L'Italia meta privilegiata di questo tipo di turismo, dove ogni territorio ospita almeno un grande santuario. Piano piano, insomma, faremo il nostro tragitto. Un po' di tranquillità, trascorrere le vacanze serene. Ciao!